Io me lo ricordo 60 anni fa, era una strada per pochi, solo per i lavoratori, se vi ricordate. Sì, perché c'era la GGE 60 anni fa, proprio qui nella piazzetta, e quindi era una strada per solo per la gente povera e lavoratori. Adesso c'è un movimento di via Tortone che non esiste quasi in tutte le regioni milanesi. È una zona importante, proprio per via, diciamo, di questa zona. Via Tortona, via Savona, tutto più importante. Ci sono tutti gli stilisti in italiano.